Navigatrice? Io? Ma come no? Ah, dov'è il carteggio? Non c'è il carteggio, però guarda! Nella gita di oggi, vi portiamo nel sentiero dei frutti perduti. Che non si fumano, si mangiano nel caso, mi raccomando. Vediamo. E niente. Il sentiero da seguire è il 135. Solo 135. Quindi, mi raccomando, i prossimi bivi controlla sempre 135. Va bene? Ci penso io. Vamo ragazzi. Ciao Luca. Ma vi lamentate per quale motivo? No, io per le salite. Ce n'è subito un'impegna attiva. Io mi aggrappò la chiara. E' molto bene. Allora, secondo il nostro esperto di geologia, è stato Sirio, quindi. Quattro picchi, cinque picchi? Cinque picchi. Sirio ha scatenato la furia qua. Il sasso spaccato di alto. La nostra guida ha impresso un cammino, cioè la velocità di passo che ha fatto selezione. Il rumore della furia qua. Lo senti? Cosa? Il rumore della furia, della cascata. Tu, Monio, lo senti? Cascata. Ma noi vogliamo andare diretti ad Alfaro? Giusto? Senza cascata? Certo, come no. Cascato di là. Vadi, vadi. Cascato di là. Vadi, vadi. E' piacevole. E' piacevole. Quindi adesso si parte, però. Si ritorna a casa, dai, tu. Non piangere. E' piacevole. E' piacevole. E' piacevole. E' piacevole. E' uscita di donare? E' piacevole? E' piacevole. Escavole. E' piacevole. un parere un'opinione a caldo quindi nessun'opinione si è divertita allora siamo arrivati siamo tutti sopravvissuti Imonio si guardi in camera animale però eccolo lì tutti sopravvissuti piaciuta la cascata la camminata un po meno ci sono stati due tratti che vi ho visto questo è stato micidiale un pomm值 siamo nel momento zen giusto quindi adesso caffè shakerato per tutti o un cucciolone vuoi un cucciolone no e dai alla prossima siamo pronti salutiamo dai ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.